e salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video in cui farò una bella parodia diciamo ballerò e mi vedete con questa sciarpa diciamo non ho soltanto la sciarpa diciamo ho pure gli occhiali ospite ve lo faccio vedere lo sapete perché perché devo fare una bella parodia che ha fatto un'altra canzone il cinese quello precedente di pap e pinapo a pop n e ha fatto la nuova canzone neo sunglasses si intitola e farò questa parodia spero vi piaccia tantissimi like per questo video commenti spero vi piaccia di appena farò questa cosa ok io mi metto gli occhiali così siamo più figo e che dire ammazza la sensazione siamo terminator dei film di spazze spazze neger come si dice ok farò questa parodia di neo sunglasses ballerò e non solo e farò quel video precedente ho fatto nel video lo farò pure qua tutte e due insieme a per pinapo la pop n e spero vi piaccia cominciamo via allora se devo ballare oggi così lo ballo qua mi auguro se può essere che l'ultima modifica ok ok comincio a ballare questo ballo di nuovo di neo sunglasses qui e spero vi piaccia questa bella canzone e non ho finito ancora eccolo qua e ballerò che l'avevo ballato nel video precedente pap e pippenne pinapo la popenne aspettate che c'è stato allora devo tagliare ricominciamo c'è stato un bloccamento del video ok posso cominciare i have a pen i have a pen i have a pen i have pineapple pineapple pen pineapple pen per pineapple apple pen per pineapple apple pen picco ecco fatto sono riuscito a fare a ballare neo sunglasses più il video precedente che avevo ballato pep pineapple apple pen spero che questa canzone vi sia piaciuta aspettate che giro il computer che mi rimetto dov'ero scusate spero che queste due belle canzoni che ho ballato anzi questo sim questa parodia nuova di neo so grassi se vi sia piaciuto iscrivetevi al mio canale che è Gabri Gamer che quasi arriviamo a 100 iscritti mi raccomando continuate a iscrivervi al mio canale così se arriviamo a 100 iscritti farò un video speciale dove in cui canterò o dove in cui ballerò vedrò io e ci vediamo prestissimo con un altro video alla prossima ciao a tutti e prima di concludere questo video saluto tutti i miei compagni e tutti quelli che mi conoscono che mi hanno seguito nei video ciao a tutti voi